Sono Stefano Mizzella, sono social media strategist in Open Knowledge, quindi molto semplicemente mi occupo delle strategie di comunicazione e di marketing su social media. Qui a Smau ho tenuto uno speech insieme a Emanuele Quintarelli che lavora con me in Open Knowledge, in cui abbiamo provato a fare il punto di come alle aziende servirebbe un approccio integrato tra Enterprise 2.0 e social media marketing. Questo perché le stesse dinamiche, gli stessi processi di collaborazione, di ascolto, di interazione, di ingaggio possono essere replicate sia all'interno che all'esterno dell'azienda. Anzi l'approccio dovrebbe essere quello integrato, quindi considerare Enterprise 2.0 e social media marketing non come due mondi distaccati che non si dialogano o anzi ancora peggio che utilizzano linguaggi diversi ma al contrario come due versanti che necessitano di interagire tra di loro. Nello specifico ho mostrato quelle che possiamo considerare le cinque regole del social media marketing, ovvero l'ascolto, la conversazione, la co-creazione, l'ingaggio, il co-design, quindi elementi che mettono l'azienda di fronte a un cambiamento non tanto tecnologico quanto culturale. Un'azienda, un brand più o meno grande che decide di comunicare sui social media non deve semplicemente pensare alla piattaforma tecnologica o il tool o al social network di moda in questo momento da utilizzare, ma deve in qualche modo rivedere quello che è il management interno e quelli che sono appunto i processi attraverso cui un'azienda mette la faccia all'interno di questi spazi, che sono spazi in cui un brand non è proprietario ma è quasi un intruso, un ospite, per cui fare marketing all'interno di questi spazi significa parlare, conversare con gli utenti, ingaggiarli e non urlare, dire semplicemente quanto è innovativa un'azienda, quanto sono buoni i suoi prodotti come faceva nel marketing tradizionale.